Ciao a tutti, la storia di oggi ha come protagonista uno dei miei maestri, forse il mio maestro più importante, Luigi Squarzina, e una grande attrice italiana del passato, Andreina Pagnani. Magari i giovani non sanno chi sia, ma insomma per le persone di una certa età, Andreina Pagnani è stata una grande star del teatro e della televisione italiana negli anni cinquanta, sessanta, era per capirci la moglie di Maigret accanto a Gino Cervi, in quella famosa serie televisiva che è tanto successo e perché io da bambino guardavo insieme alla mia famiglia con devota fedeltà. Allora, il giovane Squarzina, regista, diplomato all'Accademia, sta dirigendo Andreina Pagnani, non mi chiedete in quale commedia, presumibilmente in una commedia del repertorio americano di cui Squarzina era in quegli anni un grande specialista e un grande divulgatore, non sono ancora gli anni in cui Squarzina è condirettore insieme a Ivo Chiesa del Teatro Stabile di Genova, teatro che avrebbero portato fra gli anni sessanta e la metà degli anni settanta a un grande fulgore, a una grande fama, tanto da contendere il primato di miglior teatro italiano, niente meno che con il piccolo teatro di Giorgio Strelere, di Paolo Grassi. Bene, stanno provando questa commedia e la Pagnani ogni tanto tirava fuori un fazzolettino e si detergeva il sudore. E Squarzina che si racconta, io l'ho conosciuto cinquantenne, era un uomo severo, molto spiritoso, molto spiritoso, dotato di uno humor inglese, molto caustico, si racconta che invece quando era giovane si racconta che fosse molto severo, sempre spiritoso ma molto severo e insomma la Pagnani diceva le battute, ogni tanto si detergeva il sudore con questo fazzolettino. E Squarzina che aveva gli occhiali, faceva sempre così con gli occhiali, diceva la signora, signora la prego, il fazzolettino lo tenga in tasca. La Pagnani, obbediente, metteva il fazzolettino in tasca però dopo un po' non ce la faceva e ritirava fuori questo fazzolettino perché era un vecchio trucco degli attori di una volta per dare un'impressione di naturalezza a loro essere sulla scena. Era un espediente come un altro e questi attori di quella generazione ne facevano un uso frequente. e di nuovo il fazzolettino, di nuovo Squarzina, signora, signora, il fazzolettino, la prego, non serve. E insomma, tre volte il fazzolettino, quattro volte il fazzolettino, cinque volte il fazzolettino, alla fine, sull'ennesima richiesta di Squarzina di togliere dal campo dell'azione questo fazzolettino, dice, la Pagnani dice, ma dottore, si davano de lei, questo anche è interessante, no? Ma dottore, io ho il mio pubblico che mi segue. E Squarzina ha una risposta di un sarcasmo lancinante, dice, la precede, signora, la precede. Ecco, questo è qualcosa di più di un aneddoto, che ci fa certamente sorridere, perché chiama in campo una grande questione, no? Intanto il verbo seguire, no? Si dice sempre, quella è una persona che ha molto seguito, è un attore che ha seguito, il pubblico lo segue, i fan lo seguono, questo vale anche per tante altre categorie di artisti, fino, ahimè, alla classe politica. Bene, la domanda è questa. Fino a che punto un attore deve fare ciò che il pubblico si aspetta da lui, o da lei, nella fattispecie? Fino a che punto un attore deve assecondare i gusti del pubblico? Fino a che punto un attore che sa che questo naturalismo un po' esibito, questo che io chiamo scherzosamente lo sketch della disinvoltura, è la soluzione vera ad alcuni problemi interpretativi? Fino a che punto si deve adagiare sul già fatto, sul conosciuto, su ciò che funziona? Noi diciamo in teatro, no, questo funziona. O non deve invece correre dei rischi, esporsi, lasciarsi tutti i fazzolettini in senso metaforico in tasca per cercare nuove vie di espressione, anche magari rischiando di fare qualcosa di inaspettato, di fare qualcosa che al pubblico possa anche non piacere. La storia di questo mestiere è fatta di tanti fazzolettini o rifiuti di fazzolettini di questo genere. A me, per esempio, è capitato, ho lavorato con tanti grandi attori, è stata una delle grandi fortune e dei grandi privilegi della mia vita. A me, per esempio, è capitato di lavorare un'unica volta con Alberto Lionello, quando abbiamo fatto L'egoista di Bertolazzi. Ebbene, Lionello era un attore straordinario, che io avevo ammirato come spettatore, ma che in prova era molto più bravo, molto più sincero, molto più originale di quanto lo fosse davanti al pubblico, perché il pubblico in qualche modo lo corrompeva. Lui sentiva che certe cose funzionavano e si accontentava di fare quelle, anche perché aveva un'ossessione primigenia che era quella di farli ridere. Quindi tutto ciò che funzionava in quella direzione e lui lo ripeteva, rinunciando a una dimensione o a una grande parte di una dimensione che aveva, che era quella di essere un grande artista creatore, ma a un certo punto davanti al pubblico non osava correre troppi rischi. Ecco, dunque, la questione è ancora in piedi. Che teatro si deve fare? Si deve fare un teatro che assecondi i gusti della gente o si deve fare un teatro che sfidi i gusti della gente? Nessuno di noi ha una risposta e ognuno di noi ogni volta che fa uno spettacolo è alle prese con questa grande questione. Voi cosa ne pensate? Arrivederci. Ciao.